Salve servitori e ben ritrovati sul canale con un video estremamente speciale quest'oggi. Dovete sapere che per praticamente metà della mia esistenza, più o meno da quando ho 15 anni, vendo cose su internet. L'ho praticamente sempre fatto insomma da quando sono ragazzino, non proprio come lavoro ma comunque per racimolare qualche soldo in più. A circa 15 anni per l'appunto ho iniziato proprio vendendo le prime carte di Yu-Gi-Oh! e Pokémon, online. Poi ha una certa anche qualcosa di carte di Magic e poi ho continuato nel corso degli anni a vendere altre cose di vario genere, comunque non più carte ma altri oggetti. Ma questo non vi interessa, vi interesserà invece che da più o meno il 2020 ho ricominciato a mettere su piano piano in vendita un po' di roba di Yu-Gi, Pokémon eccetera eccetera, insomma a vendere in maniera un po' più massiccia online, anche compresa la roba della mia collezione. E quindi vi posso assicurare che in questa lunga carriera ne ho viste di cotte e di crude, per quel che riguarda l'utenza online e il compratore medio sull'internet. Perciò quest'oggi sarò felice di mostrarvi la classifica delle dieci categorie di compratori peggiori che potete incontrare online. Ovviamente alcune categorie si possono applicare anche dal vivo ma diciamo che sono dinamiche che succedono molto più spesso sull'internet. Lasciatemi quindi illustrarvi questa classifica con qualche aneddoto qua e là che potrò raccontarvi accumulato nel corso degli anni e quindi dopo 15 anni praticamente che ho a che fare con certa gente lasciatemi fare questo sfogo in maniera ironica e bonariamente smargiassa come sempre è lo spirito di questo canale. Vi dico che la classifica è da 10 posti ma ve la potevo fare anche da 20 se non da 30 volendo però dato che appunto erano tanti ho comunque voluto fare una cosa risicata a 10 posti ma ci saranno alcune menzioni speciali sia nel corso della classifica che verso la fine di essa. Ognuna di queste dieci categorie avrà un nome e poi la spiegazione con aneddoti annissi e connessi eventuali se ci saranno. Io vi vedo già che state ridendo state proprio sghignazzando e siete già lì pronti col popcorn per gustarvi il video vero? sì non lo sapete che sto per nominare anche voi tanto lo so che anche voi ci siete in queste categorie eh vedrete che le avete fatte incazzare anche voi i venditori online. Stiamo restando ovviamente che ci sono anche dei venditori online che sono assolutamente dei cani e chiaramente non prendo le parti di nessuno ci sono bravi compratori bravi venditori e tutto quanto però vi assicuro che da venditore dopo anni e anni se ne incontrano davvero tante di cose. Quindi preparatevi pure a mettere il non mi piace il pollice in giù al video perché sto per nominarvi, sto per descrivervi, ci sarete guarda proprio al mille per mille ci sarete in questo video nominati con le vostre malefatte. Quindi partiamo con questa classifica delle dieci categorie dei compratori peggiori online. Partiamo chiaramente dal basso con la decima posizione. Alla decima posizione abbiamo gli ansiogeni ovvero sono quelli che da bravi vi fanno l'ordine su ebay, car market, altri siti insomma quello che può essere e dopo massimo ma vi assicuro massimo un'ora vi scrivono chiedendovi hai spedito? Il più delle volte neanche ciao buonasera ho fatto un ordine da te no 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 hai spedito? Così magari tutto minuscolo senza punto di domanda cioè proprio così. Quindi vi assicuro che è una categoria abbastanza diffusa non eccessivamente però insomma capitano sono in decima posizione quindi sono comunque in basso in basso perché comunque almeno almeno comprano e comunque possiamo anche parzialmente capirli magari ci sono tanti venditori che non lo so gli compri le carte di domenica perché vorresti averle entro la settimana in modo che te le spediscano martedì o lunedì magari ancora meglio in posta uno magari così ce le avete per metà settimana invece ve le spediscono di giovedì pomeriggio quindi gli ansiogeni fanno un po' cascare le palle però tutto sommato li capiamo e comunque perlomeno come già detto almeno comprano almeno hanno spalancato il portafoglio e vi hanno ceduto i loro averi per possedere le figurine in vostro possesso però a questo proposito un aneddoto ve lo devo assolutamente raccontare è successo tra l'altro neanche tanto tempo fa giusto qualche mese fa ovvero mi arriva un messaggio su ebay con scritto ciao hai spedito da parte di un utente che non aveva comprato nulla da me cioè il nome dell'utente non mi diceva nulla vado a vedere tutta la lista degli ordini riguardo fino a due tre mesi prima dicendo oddio questo magari uno che mi ha comprato in posta quattro due mesi fa una roba e non gli arrivate quindi mi chiede se l'ho spedita eccetera tutto quanto guardo non lo trovo sto utente bla 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 dopo circa cinque minuti mi arriva la notifica venduto avevo venduto quella carta di cui parlava insomma il messaggio praticamente qui siamo nella fantascienza questo mi aveva scritto se avevo spedito ancora prima di fare l'ordine fantastico categoria numero 9 di compratori peggiori online abbiamo senza alcun dubbio i barboni si oppo questo se siete dei venditori lo capirete per forza proprio tipo su car market no magari sono un po di giorni che non vendete niente che va un po di merda così insomma le vendite non vanno un che poi all'improvviso ma notifica di un ordine vai vedere sfregandoti le mani sperando di aver venduto no non dico cent'euro di roba ma insomma magari qualcosa di sostanzioso apri l'ordine e trovi una carta da 10 centesimi e io anche qui posso parzialmente giustificare la cosa dicendo ok ti serviva solo quella carta non volevi spenderci più di quei 2 euro 1 euro 50 qualcosa insomma ci vai a spendere prendendo oltretutto in posta 4 quindi barbonata suprema va bene posso capirlo però cristo cioè già che fai un ordine che ti paghi la spedizione per una carta a 10 centesimi prova a vedere se c'è qualcos'altro rimanendo sempre nella stessa spesa di spedizione no e questa è soltanto una categoria di barboni vi assicuro che ce ne sono diverse altre che vedremo dopo però questa è la versione buona tra virgolette perché almeno questi barboni tutto sommato almeno comprano qualcosa certo ci guadagni qualche centesimo quindi insomma non è tutta sta festa però almeno ti liberano magari di una carta palta tra quelle che hai poi ottava posizione abbiamo i ricercati altrimenti detti quelli che non sanno neanche dove abitano perché i ricercati o quelli che non sanno neanche dove abitano sono quelli che vi fanno un ordine bene andate a vedere l'indirizzo di spedizione e non si capisce un cazzo io vi assicuro che certe volte ho visto degli indirizzi che che sembrava fossero messi apposta per non essere trovati proprio per fare in modo che il postino non li trovasse per quello i ricercati veramente cioè robe come nome cognome la via poi magari non c'è il civico però c'è il nome della frazione dove abitano però sotto c'è di nuovo il nome della frazione insieme a un altro nome della frazione e poi alla fine non c'è neanche la sigla della provincia bene io dove la mando la roba insomma questi i casi dei ricercati ovvero quelli che non sanno neanche dove abitano quando capitano ti tocca prendere il tizio mandargli un messaggio e chiedergli dove cristo abita letteralmente cioè chiedergli se l'indirizzo inserito è corretto perché ovviamente sai già che non può esserlo soprattutto se non c'è il civico o non c'è altro di fondamentale e a questo proposito un piccolo appunto sugli indirizzi già che ci siamo succede un oceano di volte oltre alla cosa che magari no voi abitate in via garibaldi però e scrivete soltanto garibaldi vabbè io scusate non sono della vostra città non posso sapere se è via garibaldi o piazza garibaldi o vicolo garibaldi o mia nonna in carriola garibaldi quindi almeno quello lo dovreste mettere ma un'altra cosa direi abbastanza importante che dovreste mettere dio bono è la provincia perché io sempre con tutto il rispetto per il paesino da 42 abitanti in cui vivete io per quale motivo dovrei sapere in che provincia si trova ovviamente questo si applica soltanto ai paesini che non fanno provincia perché se abitate che ne so per esempio ad arezzo arezzo è una provincia già di suo quindi non c'è bisogno di mettere a r non c'è problema ma se abitate in qualsiasi altro comune che non faccia provincia eccetera tutto quanto è un macello altrimenti fate come se io vi dicessi che dovete spedire a cartoceto dov'è lo sapete no ma guarda anche questi comunque li mettiamo in ottava posizione quindi abbastanza in basso perché tutto sommato probabilmente fanno gli errori che fanno non volendo poracci e in ogni caso almeno comprano quindi sborsano qualcosina insomma ti aiutano ad arrivare a fine mese ora categoria numero 7 i ripensanti depensanti ovvero sono tutti quelli che così ci ripensano ovvero dopo due secondi di ordine o magari dopo una settimana dall'ordine semplicemente decidono di annullare l'ordine magari già fatto soprattutto nel caso di quelli dei due secondi no ti arriva in ordine sei tutto contento vai a vedere bla 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 che bello hai venduto queste figurine dopo cinque minuti richiesta di cancellazione ordine certo dici almeno in questo caso è veloce indolore la cosa no rimetti in vendita appunto e basta vabbè pazienza il problema è quando ci sono quelli che prolungano l'agonia cioè quelli che dopo settimane di trattative tiramenti sul prezzo liste domande foto eccetera alla fine cancellano l'ordine oppure non te lo fanno proprio quindi niente zero proprio e qui cominciamo a essere nella zona della classifica di gente che non compra neanche oltre a rompere il cazzo quindi o perlomeno compra ma dopo a nulla quindi come se non comprasse quindi non va bene per niente ma adesso attenzione attenzionissima perché stiamo andando alla categoria numero sei siamo quasi a metà classifica e cominciano a esserci certe categorie interessanti alla sesta posizione troviamo gli analfabeti ovvero sono quelli che a prescindere che ti abbiano ordinato qualcosa non te l'abbiano ordinato ma vi assicuro che ovviamente è più spesso uno che non ti ha mai ordinato nulla sono quelli che ti scrivono messaggi che non so ci vuole qualche esperto di linguistica comparata o di lingue antiche archeologi vari per comprendere che cosa sta dicendo e io per carità non sono fiscale sullo scrivere bene o cose tutto quanto però cioè quel minimo per farsi capire perché veramente alcuni ti scrivono peggio di quelli appena sbarcati a Lampedusa sono quelli che tanto per dire vi scrivono e proprio vi echeggia nella mente mentre leggete musconi che urla senza le maiuscole senza i punti in generale diciamo che vi ritrovate sti papiri da due tre quattro righe completamente senza punteggiatura oppure con i puntini puntini usati come punteggiatura cosa che non vale ve lo assicuro oppure se non è un papiro è magari cinque sei parole in croce ma messe proprio cioè mischiate così come non lo so le tessere del domino e quindi non capito un cazzo lo stesso e alla fine di tutto ciò siete lì che dite cosa e spesso e volentieri dopo aver cercato di interpretare in maniera il più possibile giusta quello che ti stanno chiedendo ovviamente alla fine non comprano un cazzo e tutto ciò con tutto il rispetto per gli analfabeti quelli veri che hanno tirato avanti il mondo fino all'altro ieri contando che anche Carlo Magno era analfabeta però voi l'aria da Carlo Magno non ce l'avete per niente quindi vedete di scrivere decentemente e qui la classifica comincia a diventare calda torrida perché siamo in quinta posizione e al quinto posto abbiamo i cagacazzo scusate se lo dico in francese ma non si meritano assolutamente di meglio questi individui che sarebbero quelli ovviamente una definizione molto generica però qui nello specifico parlo di quelli che veramente ti trovano il pelo di culo nell'uovo per qualsiasi stronzata nello specifico la cosa che mi capita più spesso sono sicuramente i puntigliosi chiamiamoli così dei pacchi ovvero sono quelli che gli arriva il pacco tutto a posto perfetto sono arrivate bene le carte non sono arrivate rovinate o cose tutto quanto però nella recensione nel feedback o quello che è insomma vi scrivono arrivato tutto a posto ma il pacco si poteva fare meglio io non so voi ma sono dell'idea che se una roba ti arriva effettivamente bene tutto quanto tutto sto da lamentarsi non credo che ci dovrebbe essere no certe volte mi sono arrivate certe buste che praticamente erano aperte o con dentro le carte proprio scaraventate dentro così senza neanche la bustina e non mi sono lamentato perché comunque erano arrivate bene e lì veramente c'era da lamentarsi perché poteva effettivamente essere che arrivassero male cioè io che faccio insomma impacchettamenti decisamente resistenti antipioggia tutto quanto che tu mi venga a cagare il cazzo che l'impacchettamento non era fatto bene nonostante le carte sono arrivate tutte giuste non posso che anche simpaticamente mandarti cagare ma se quelli in quinta posizione sono gravi vi assicuro che quelli in quarta posizione sono ancora peggio sono di una categoria molto simile ma ancora peggio e sono i gradatori di comuni sono per forza individui che mandano a gradare le comuni perché è l'unica spiegazione dal fatto che sono individui che ti fanno ordini da 20 30 40 carte magari tutto in condizioni un po miste eccetera tutto quanto gli arriva l'ordine non manca niente siamo tutti a posto eccetera però ti scrivono che una carta da 20 centesimi che era listata a nermint invece è excellent io sono sempre molto comprensivo posso anche capire che uno dica io ho pagato tot per avere la carta nelle condizioni in cui era scritto quindi io pretendo che sia assolutamente come era scritto sì però tutto ciò a costo di non essere un rompicoglioni perché un conto è che si parli di una carta da 10 euro listata nermint excellent sta a 5 e ti arriva excellent allora posso ovviamente capire e ovviamente in quel caso è errore mio in certi casi ho risolto il problema con il rimborsio quant'altro in quei casi ma in quegli altri casi in cui appunto mi fai un ordine magari con anche tante carte tutte comunacce tutte schifezzuole magari che stanno a centesimi tutto quanto e una non è proprio nella condizione perfetta magari è good invece che excellent bla 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 cosa rubi coglioni sempre parlando di una su tante ovvio che se metà delle carte sono messe di merda invece dovevano essere messe bene ovvio che in quel caso le ragioni sono tutte tue ovviamente io adesso sto parlando di comuni ma inteso tutte le robe da centesimi quindi comprese le brellanti nuove per esempio di yogi che stanno a centesimi ecco parliamo sempre anche di quelle carte lì perché appunto capitano cagamenti di cazzo anche per quelle carte lì che però sono pur sempre da centesimi un euro al massimo giù di lì fermo restando che io personalmente con problemi diciamo di discrepanze di condizioni di carte mi è capitato veramente quasi mai ma per il semplice motivo che su ebay ci sono le foto e io le faccio molto dettagliate evidenziando i difetti e tutto quanto e quelle stesse foto le metto anche su car market penso di essere forse l'unico venditore in tutto car market di yogi e in realtà anche pokemon e magic vabbè che che fa sta cosa cioè perché quasi nessuno altrimenti mette il fronte e il retro e men che meno mette i difetti evidenziati delle carte però ovviamente questo vale per le carte di un minimo di valore perciò quando capita che uno sbaglia magari perché ha tante carte sbaglia a listarne una che è excellent invece che nermint se tutto il resto dell'ordine va bene dai non rompere i coglioni su questo ne avrei veramente tanti di aneddoti da raccontare però in particolare me ne ricorderò per sempre uno ovvero anni fa su car market mi fecero un ordine con un po di carte così tra cui una metal morph da battle pack che avevo tra l'altro spacchettato io probabilmente in uno dei video del canale tra l'altro ero ancora agli inizi su car market e niente mettevo le carte che avevo appena spacchettato come mint grosso errore perché sì vi svelo il segreto che il mint esiste per le carte però per i compratori non esiste a quanto pare quindi mi comprarono questa metal morph insieme ad altre carte quelli arriva all'ordine tutto quanto manda un messaggio in cui c'è scritto vorrei il rimborso di metal morph perché era segnata come mint ma è decentrata e fu lì che cominciai a scoprire gli spaventosi danni che aveva fatto la moda del gradare le carte perché veramente uno pensava che una carta mint dovesse essere anche centrata perfetta perché altrimenti se la mando a psa perché questo ovviamente era un gradatore di comuni era uno che la voleva mandare da psa metal morph e non mi mette 10 perché non è centrata bene che nel caso non lo sapesse sono tutte stronzate che non sono mai esistite nel collezionismo di carte una carta messa bene che fosse near mint o mint perfetta o near mint meno con un difettino minuscolo eccetera per un collezionista vecchia scuola una persona normale insomma sarà comunque messa bene e avrà il suo valore e non avrà valore soltanto se psa bgs o altre di quelle compagnie ci hanno scritto sopra mint e quindi è bella per forza perché c'è scritto così bene siamo arrivati sul podio proprio ci siamo quasi non vedrete l'ora di sentire le tre peggiori categorie di compratori tanto non l'avete capito è che se non vi ho nominati fino adesso vi nominerò adesso vi proprio farò la vostra descrizione perfetta siete voi siete voi quelli che sto per descrivere a breve quindi attenzione attenzionissima perché in terza posizione abbiamo gli inquisitori che sono quelli che ovviamente non ti compreranno mai nulla manco per sbaglio e è una categoria che più che altro c'è su ebay devo dire perché lì anche le spese di spedizione i prezzi che puoi fare sono completamente liberi no e niente sono quelli che ti arrivano e ti chiedono per fare un esempio proprio di quello più spesso capitato ma come mai se la posta 1 costa 2 euro 80 chiedi 4 oppure 5 euro di spedizione oppure ovviamente la variante sempre verde di quello che ti dice a questa carta queste condizioni stessa versione quell'altro venditore la fa 5 euro tu perché la fai a 10 euro e chissà a questi intelligentissimi individui toccherebbe spiegare una cosa su tutte la cosa proprio più importante in assoluto nel caso vi fosse sfuggito che il prezzo di una figurina lo fa il venditore quindi uno può metterla anche a 50 euro una carta da 5 euro ma li che vadano gliela compri qual è il problema se io la faccio a 10 e lui la fa 5 a parità di condizioni perché non compri quella da 5 invece di scrivere a me di inquisirmi di rompermi il cazzo che cazzo vuoi poi certo è tutto da vedere che io dica che una carta sia in una condizione a 10 euro e quell'altro la fa 5 e veramente sia in quella condizione sai perché può sempre essere che io abbia un migliaio di feedback e quell'altro ce n'abbia zero spaccati o meno uno o roba del genere però dice che è near mint come la mia quindi dai ci si può fidare tutto sommato no e poi ovviamente senza contare che un venditore può tenere alta una carta per due milioni di motivi diversi può essere che che pensa che si alzi nel futuro magari quindi non la vuole svendere troppo questo soprattutto per le carte nuove oppure non la vuole vendere a poco perché magari nel frattempo può essere anche che gli serva che la stia usando per giocarla per così eccetera questo capita anche a me spesso volentieri quindi non la vuole svendere se proprio la vuole vendere insomma la vuole vendere a al più possibile tra virgolette può essere che dato che c'è tanta disponibilità di carte magari soprattutto i negozioni con un milione di carte dicono ok questa sta a 50 centesimi no io lo faccio a 2 euro perché magari o mi stai già ordinando questo è un discorso che che si può discutere su quanto ci se ne possa approfittare però in linea di massima ci può stare insomma ci sono tante cose questo riguardo al prezzo della carta in sé riguardo nello specifico quelli della spedizione c'è un'altra cosa una seconda cosa che io non vorrei spiegarla perché dopo non vorrei che cresceste troppo capito che dopo diventaste troppo intelligenti se vi spiego sta cosa però tanto so già che non la capirete quindi ve la spiego lo stesso evidentemente questi individui non sanno che su ebay ci sono delle cose chiamate commissioni ebay questo significa che a ogni vendita che faccio a qualsiasi prezzo esso sia il signor ebay si prende una cospicua percentuale di commissioni che una volta addirittura era anche più alta non lo dico neanche quant'era perché era vergognoso veramente adesso si è un po abbassata devo dire ma comunque sempre altina diciamo e quindi io personalmente piuttosto che tenere la carta a prezzo più alto preferisco diciamo attraverso un calcolo fatto già da tempo nel corso degli anni calcolare nella spesa di spedizione in percentuale a quanto può essere la commissioni ebay abbastanza da non perderci eccessivamente quindi nei 5 euro che poi a volte 4 euro ma diciamo anche 5 euro della posta 1 rientrano i 2 euro e 90 della posta 1 perché tu non lo sai ma è aumentata vabbè dici di 10 centesimi sti cazzi sì sì vabbè intanto è aumentata i 2 euro 90 della posta 1 l'imballo perché comunque la busta non è che me la regalino quindi comunque c'è anche quello e ovviamente le famigerate commissioni ebay che come già detto non sono esattamente bassissime quindi perdonatemi se ne devo tenere conto senza contare che a me sempre io parlo di me personalmente piace anche inserire come carte omaggio di solito appunto delle figurine in più per anche proteggere magari le carte che sono state ordinate ma anche comunque per fare un omaggio quindi nessun venditore tenuto a farlo però a me piace farlo per comunque dare un pochetto di valore in più all'ordine che ovviamente magari infimo però tante volte sono graditi anche questi piccoli omaggi e come ultima cosa sempre riguardo ebay e sempre riguardo questa storia indovinate un po dato che su ebay generalmente i prezzi sono leggermente più alti per i motivi già detto io sempre io personalmente lascio aperta sempre anche la possibilità di fare proposte d'acquisto quindi di propormi tu il tuo prezzo ovvio che se ho su una carta a 20 euro mi proponi 5 euro io ti mando a cagare però se ce l'ho su a 20 euro tu mi proponi 15 se ne può parlare anche perché sinceramente io sono sempre molto elastico con i prezzi non non mi va mai di essere categorico per un euro per due euro soprattutto magari in in carte di valore più alto quindi se invece di mandarmi con il messaggio inutile e ritardato avessi semplicemente mandato la proposta d'acquisto magari più o meno ragionevole magari riuscivi anche a prenderla al prezzo che dicevi tu la carta altrimenti se pensavi di prendere a un euro una carta da 10 euro quella è la porta siamo quasi alla fine servitori siete pronti siete pronti alla seconda posizione e io no no non siete pronti perché la seconda posizione sapete da chi è occupata in seconda posizione abbiamo gli zio paperone altrimenti conosciuti oltre che come zio paperone anche come i barboni ed eccoli che tornano o i pidocchi chi sono queste queste proprio gradevolissime categorie lo zio paperone barra il barbone barra il pidocchio è quello che ti chiederà il prezzo di una carta oppure vedrà il prezzo della tua carta e irremediabilmente magari una carta da 2 euro ti chiederà di fargliela a un euro e 50 oppure una carta da un euro e 50 ti chiederà di fargliela a un euro e 30 oppure per ordini complessivi dall'importante valore di circa 10 euro ti chiederà di togliergli un euro ora io ho appena finito di dire sono elastico con i prezzi delle carte per carità assolutamente sì perché comunque sono cose che non hanno prezzi definiti in ogni caso non mi piace attaccarmi ai 50 centesimi o agli euro ovviamente solitamente se una carta è buona giocabile giocata anche in buone condizioni 50 centesimi un euro potrebbe anche valerli però tante volte anche carte da 50 centesimi un euro le regalo o le ho regalate perché dai se a qualcuno servono qualcuno di mia conoscenza eccetera le posso anche regalare non sono così zio paperone io invece questi individui ti tirano sul prezzo neanche fossimo al bazar di bagdad ti tirano su quei cazzo di centesimi e veramente tirare sul prezzo a me sta benissimo proprio per quello io tengo le proposte d'acquisto su ebay però se su una carta da 50 euro tu mi fai la proposta d'acquisto da 40 che vuoi pagarla 10 euro in meno o se alla fine il prezzo ci può stare magari ti posso anche accettare però cioè se si parla di 5 10 euro anche 3 4 euro posso capire ma cioè perché devi proprio buttare nel cesso la tua dignità per risparmiare 50 centesimi barra un euro cioè cosa rompi il cazzo io tantissime volte veramente questi mi sono capitati un bel po di volte che mi chiedessero di togliergli 50 centesimi dall'ordine un euro dall'ordine ma per cosa perché ci dovete comprare le gole ad or cioè io tante volte alla fine ho accettato quasi sempre perché comunque come a te non dovrebbero cambiare 50 centesimi non cambiano nemmeno a me la vita no penso spero che sia così perlomeno no ma penso che lo sia nel sempre diciamo che se compri figurine probabilmente 50 centesimi non ti cambiano la vita tutto lì il discorso ma neanche un euro sappiate che magari alla fine ho anche accettato le vostre proposte di 2 euro invece di 2 euro e 50 ma sappiate che mi fate un misto di pena e schifo veramente perché non comprendo questa cosa poi in questa sottocategoria ci sono sempre quelli proprio più pidocchiosi possibili che veramente cioè voi non avete idea di quanta gente metti caso ho una carta su a 50 euro mi chiedono se la posso fare un po di meno dico magari sì posso farla anche a 40 posso farla anche a 35 ma 35 proprio il minimo minimo glielo dico guarda sì la posso fare a 35 e l'altro magari mi fa ma io al massimo ti posso offrire 30 per questa e io è guarda 35 il minimo che posso fare proprio non posso andare giù di meno bla 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 e quello che ti risponde un po troppo non me la potresti fare a 33 cioè madonna in cariola se ce l'ho su a 50 e magari il suo prezzo di mercato solitamente più o meno è 40 te sei disposto a pagarla 30 io t'ho già tolto 15 euro dal prezzo che c'ho te per 2 euro in più rompi il cazzo no perché dopo spesso per 2 3 euro non gli sta bene non è che così alla fine dicono di sì no no molto spesso dopo che li togli molto di più di quello che loro devono aggiungere non gli sta bene anche se ripeto io a quel punto spesso volentieri per 1 2 euro me ne sbatto il cazzo e accetto però siete veramente dei pidocchi perché c'è sempre un po sta tendenza di dover fare per forza l'affare cioè ah sta carta sta a 35 io l'ho presa 33 io sono io sono proprio intelligente gliel'ho fatta proprio a quel venditore deficiente ma vaffanculo se una carta sta a 35 40 io ti propongo 35 accetto e non rompere il cazzo se il prezzo è buono perché devi fare il pidocchio il barbone per 1 2 euro cioè ste cifre qua 1 2 euro 3 euro cioè non ti cambiano un cazzo nella vita posso capire se cominciamo a dire 5 10 euro anche se poi tocca vedere sempre in proporzione al prezzo della carta ma cioè 1 euro 2 euro 3 euro ste cifre così cosa ti cambiano nella vita non ti cambiano un cazzo quindi non fare ste figure di merda comunque c'è da dire che molto spesso quelli che trattano sul prezzo in queste maniere pidocchiose è gente che vuole rivendere le carte non ai collezionisti seri perché i collezionisti seri se c'è una carta che sta tot ti pagano quel tot e punto e basta e non rompono i coglioni e su questo non c'è alcun dubbio se gli interessa veramente si intende finalmente siamo alla fine di questa tristissima classifica ma prima di rivelare la prima posizione ovvero i peggiori compratore in assoluto mai incontrati online abbiamo qualche menzioncina speciale da fare come menzioni speciali innanzitutto abbiamo quelli del mi chiedi da parte questa e poi scompaiono ci dissolvono completamente nel lettere ti chiedono di metterle da parte una carta che te la compreranno al 2000 per cento massimo 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 una settimana dopo tu la togli da ebay da carmarket da vinte da subito punto it da ovunque e poi non li sentirai mai più collegati a questi abbiamo quelli che su ebay ti chiedono di fargli l'inserzione apposta proprio creargli un'inserzione apposta con tutte le carte che vogliono loro gli dici ok posto questa è l'inserzione paga pure quando vuoi eccetera eccetera e non ti pagheranno mai poi abbiamo quelli che ti fanno l'ordine e poi ti chiedono espressamente nei messaggi di inviare le carte dentro le bustine protettive come se non avessi un migliaio di feedback e non fosse una cosa ovvia poi quelli che ti chiedono di spedire con un top loader carte da 2 euro peggio ancora che ti lasciano il feedback negativo perché non gli hai spedito quella carta da 2 euro con il top loader che tra l'altro molto probabilmente non sanno che il top loader combinato con la busta gialla imbottita è una delle maniere peggiori per spedire perché questa maniera la carta all'interno può piegarsi molto più facilmente che con due pezzi di cartone che la tengano perfettamente ferma dato che il top loader è qualcosa comunque di molto facile da spiegazzare la busta gialla imbottita non è rigida per un cazzo quindi rischia di piegarsi molto facilmente e quindi di conseguenza si può piegare all'interno la carta paradossalmente per spedire solo col top loader è più sicura la busta bianca classica della busta gialla imbottita quindi fate voi comunque sia che spedisca col top loader o no io vado sempre sul sicuro spedendo tra pezzi di cartone ben scocciati quindi impossibile che si facciano niente le carte poi altre menzioni speciali quelli che non sanno i nomi delle carte quelli che non sanno le condizioni delle carte quelli che non sanno la rarità delle carte e su questo c'è un aneddoto purtroppo non mio ma di un negozio vicino alla mia città che aveva in vendita un drago al lato di ragost come quello che ho spacchettato io al tempo non lo stesso però ce l'aveva su vabbè al prezzo che stava credo 250 300 euro non lo so su ebay gli arriva un messaggio di un tizio che gli dice senza ciao senza preamboli senza niente il messaggio recitava testuali parole ti do 20 euro e ci rimetto il negoziante è rimasto un po interdetto come dire questo che vuole sto matto vi ha scritto gli ha risposto molto cortesemente dicendo guarda la carta ghost non posso farla così tanto di meno rispetto a come ce l'ho su mi dispiace eccetera e questo gli risponde a ma io ne vedo altre in vendita che sono massimo a 20 euro sì peccato che le altre vendita che vedeva chiaramente fossero di altre edizioni tipo versioni ovviamente molto meno costose e probabilmente neanche dallo stesso set quindi mi abbiamo dovuto spiegare anche quello ma adesso basta arriviamo finalmente a svelare chi c'è in prima posizione qual è la categoria peggiore di compratori online anche se devo dire che le prime 3 barra 4 5 se la potevano battere un po tutti però questa è una categoria che veramente probabilmente è quella che ho visto più spesso in assoluto anche in altri ambiti non solo nelle carte sulla quale comunque ci siamo concentrati in questa classifica però è veramente un sempreverde ed è veramente una cosa che vi capiterà sempre da bestia sempre e comunque in prima posizione abbiamo i collezionisti di foto non dite cazzate non dite che non l'avete mai fatto perché lo so che lo avete fatto sono esattamente quelli sono quelli che vi chiederanno 2587 foto della carta in questione che comunque il più delle volte è una roba da 5 barra 10 euro cioè neanche fosse qualcosa da 2 300 euro che in quel caso le foto le mandi molto più volentieri no vi chiederanno le foto davanti dietro contro luce contro pelo pelo e contro pelo col flash del cellulare sotto alla luce del sole la prova dell'acqua sotto il rubinetto in lavastoviglie eccetera poi dopo che li avrete accontentati mandando tutte le 4000 foto che vogliono e che richiesto scompariranno perché ricordiamo i collezionisti di foto non collezionano carte oggetti in generale con lezionano foto hanno la loro cartella nel computer in cui dentro ci sono tutte le foto delle carte che hanno cioè le foto che hanno delle carte questo ovviamente è rivolto a quelli che chiedono 2000 foto senza poi comprare senza neanche poi ringraziare almeno delle foto o un minimo dare una giustificazione del perché non le compri eccetera e qui per carità non dico che se chiedete le foto di una carta dobbiate per forza comprarla e non dico nemmeno che se non volete una carta di cui avete richiesto le foto dobbiate per forza giustificarvi dire no non la prendo perché eccetera ok però almeno almeno potreste rispondere con un grazie giusto quello e mi chiedo se perlomeno ogni tanto proprio giusto qualche volta sia mai successo che abbiate chiesto foto di una carta e poi l'abbiate effettivamente comprata perché io ne dubito fortemente vi assicuro vi posso giurare su tutti i re dei servitori del teschio che volete che ho almeno una ventina di utenti car market o ebay che mi hanno chiesto foto nel corso degli anni di almeno due tre carte e poi non mi hanno mai comprato niente risultato alla quarta quinta foto che mi chiedevano non ho più risposto e direi che se lo sono meritato quindi ricordatevi la prossima volta che chiederete foto a negozi grossi magari di carte da 5 10 20 euro e vi risponderanno che non possono perché non possono far fronte a tutte le richieste di foto che gli mandano tutti i giorni che il motivo di tutto ciò siete voi servitori questa era la terribile classifica delle 10 categorie di compratori peggiori che mi siano mai capitate con tanto dimensioni speciali che vi ho detto giusto alcune se ci pensavo un po potevo andare avanti fino a domattina ma queste sono fatemi sapere nei commenti chi siete voi perché tanto lo so che che ci siete che c'eravate in questa classifica altrimenti altrimenti se incredibilmente non ci siete siete dei bravi compratori fatemelo sapere nei commenti se lo siete effettivamente e quali sono le categorie da voi più odiate tra quelle che vi ho nominato spero che come al solito vi siate fatti un paio di risate sulle mie disgrazie come succede sempre e magari voglio sperare che un minimo possa far migliorare leggermente la qualità dei compratori che c'è in giro se sarà servito anche solo un pochetto in questo senso sarà già un successo servitori carissimi dalla classifica dei compratori peggiori questo è tutto vi do adunque appuntamento ai prossimi video del canale i distinti sono saluti grazie grazie